Ragazzi, qui può venire Guardiola, Murigno, tutti quelli che volete. Qua il marcio ce l'abbiamo dentro, c'è poco da fare. In questa squadra, personalmente, scusate lo sfogo, abbiamo da prendere solo Soleri e Brunori. Tutto il resto per me è proprio da fare tipo tabula rasa. Perché ragazzi, mi sono rotto le palle, mi sono rotto le palle di vedere prestazioni di questo tipo ogni volta. Cambia l'allenatore, le prime due sono tutti lì, belli entusiasti, belli... Poi completamente il delirio. Poi una squadra che gioca con quattro centrali, forse soltanto noi in tutta la Serie C abbiamo quattro centrali che giocano in difesa. Perché tanto noi dei terzini non ne abbiamo mica bisogno, possiamo cedere al mici per poi prendere la miagna e metterlo in panchina. Perché ha una logica in questo... Noi dobbiamo cambiare praticamente la formazione ogni settimana. Ogni settimana dobbiamo avere una formazione diversa perché non riusciamo ad avere un unice titolare che quello è, a letto delle squalifiche, infortuni, tutto quello che volete. Ma possibile mai che comunque, al netto di tutto, di una prestazione orribile, di un Palermo svogliato che come al solito gioca un po' affolato e così che in difesa è inguardabile, ma mi spiegate perché se tutti alla fine, in qualche maniera, a parte Brunori, che comunque è sempre titolare, tutti ruotano in questa squadra, perché dobbiamo tenerci quel cesso di Pelagotti in porta. È un cesso. Basta. Abbiamo tanti problemi. Abbiamo tante cose, per carità, da risolvere, tanti problemi. Ma io non voglio più vedere Pelagotti in porta. È giusto dare una possibilità a Massolo, perché veramente io sono stanco di vedere un portiere che non merita di stare lì perché sta facendo una cagata dietro l'altra. Abbiamo preso il gol col Messina per colpa sua, il gol di stasera è per il 2-1, è colpa sua. Non ne becca una, non ne para una, in diagonale lui non ce la fa. Basta, basta, basta. È ora di dare spazio a Massolo, poiché non risolverà i nostri problemi, siamo tutti d'accordo. Ma intanto partiamo dal cambiare il portiere, perché è giusto che siccome cambiano tutti, è giusto che anche lui prenda la sua bella sedia, alla quale è affezionato, e se la porti a fare, fatemi fare tre mesi di servizio civile, ma non solo a lui, a tutti quelli che non ci hanno, o che non ci hanno voglia, che non sono in grado di stare tra i professionisti, perché ci siamo rotti le palle. Abbiamo perso un'occasione incredibile, hanno perso tutte lì davanti, pure il Bari in casa col Messina ha perso. Hanno perso tutte, abbiamo perso un'occasione. Così come l'abbiamo persa col Messina, che poi va bene, dici, vabbè, il Messina ha vinto a Bari, ci sta che pareggi col Messina, a questo punto rivaluti tutto, no? Dopo che il Messina vince in casa del Bari. Però, non è possibile vedere prestazioni sempre così altaneranti da una partita e l'altra, formazioni diverse da una partita e l'altra. Damiani, a cosa l'abbiamo presa a fare? Per lasciarlo in panchina. Una partita ha fatto sto ragazzo, ha giocato bene e lo lasciato in panchina. Ma perché deve stare in panchina? Ci siamo rotti le palle, basta. Ma qua può arrivare Baldini, può arrivare tutti gli allenatori che volete. Qua bisogna prendere il marcio e toglierlo dalla squadra. Basta, io il marcio lo vedo, sapete in cui i giocatori lo vedo? Lo vedo nei giocatori del 2019. Allora, prendiamo Pelagotti, Crivello, Floriano, basta, via, basta. Lo spogliatoio tanto non credo che ne risentirebbe. Togliamo tutti quelli che sono o ex giocatori o giocatori che non sono più in grado di giocare tra i professionisti e intanto li togli. La lista sarebbe anche più lunga di quella che ho appena fatto. Però, certo, non puoi togliere tutta la squadra. Partiamo da chi c'ha voglia e soprattutto diamo un ordine, diamo un ordine ai ruoli. Non possiamo giocare con due centrali sugli esterni. Non possiamo giocare sempre cambiando formazione, sempre con una formazione diversa. Vedete, poi Soleri e Brunori veramente, io lo dico sempre, sono gli unici due ragazzi che veramente si salvano. E meno male che ci abbiamo questi due ragazzi, perché sono il delirio. Silipo non era nemmeno entrato male in campo, in quell'occasione poi nella punizione. Ma c'è, come fai Oger con 7 metri di porta, cacchio, 7 metri di porta, a riuscire a beccare gli unici 10-20 centimetri dove c'è il portiere? Ma lì ce le meritiamo queste cose, ragazzi. Ce le meritiamo, perché non è possibile una cosa del genere. Cioè, ma come vuoi andare a vincere i play-off con uno che sbaglia un gol con 7 metri di porta? Ma non è solo quello, con quello che prende a un tiro un gol. Cioè, ma non è possibile. Cioè, non è possibile. Oggi è inguardabile. Non lo so, sarebbe... Mi veniva da bestemmiare ogni minuto della partita. Cioè, non si può andare avanti così. Qua bisogna veramente capire che non si può andare avanti così. Cioè, io non riesco a capire. Poi l'anno prossimo c'è gente che parla dei rinnovi del contratto. Ma qua c'è che dobbiamo liberare di parecchia gente. Piuttosto vediamone di nuova. Mi ricordo quando... Vi ricordate quando noi odiavamo i vari Nestorowski, i poverini, vabbè, le iaia, tutta quella gente lì che dicevamo eh, ma piuttosto via, via sta gente. Ecco, mi sembra di ritornare al passato. Di quando volevo che mezza squadra andasse via. Perché non sopportavo più la loro vista. Più o meno siamo lì. Basta, scusatemi, non ho nient'altro da dire sulla partita perché veramente è uno schifo. Abbiamo perso un'occasione assurda. Continuiamo a perdere occasioni.